Di sette mesi, infatti, hanno avuto dei problemi alla nascita Giulia ha avuto quel problema che adesso è sulla sedia a rodè Marta pesava un chilo Sera il mao, sei un po' 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 Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì.